ciao a tutti amici di vanilla oggi parleremo di marito moglie e cicisbeo il triangolo amoroso socialmente accettato nel settecento se non l'hai ancora fatto iscriviti al canale di vanilla magazine il settecento è il secolo dei lumi epoca di grandi cambiamenti che ha rivoluzionato se non il mondo in senso generale almeno il modo di pensare dell'uomo moderno è anche il secolo che vede l'italia come meta preferita del grand tour i rampolli dell'aristocrazia europea per completare la loro educazione viaggiano per l'italia tratti dalla sua cultura dall'arte e dalle antichità tutto molto bello e istruttivo esaltante in alcuni casi e talvolta stupefacente e stupefacente va proprio inteso come lo stupore provato di fronte ad alcune consuetudini italiane per esempio l'abitudine a un presunto triangolo amoroso marito moglie e amante di lei non solo tollerato ma addirittura previsto come norma sociale tra i nobili italiani e d'altronde agli stranieri non può sembrare altro se non un adulterio consentito quella strana abitudine di accompagnare a una nobildonna sposata un cicisbeo ovvero un giovane uomo che costantemente si preoccupa di assecondare i desideri della signora la compagna in chiesa dove le toglie il fastidio di bagnarsi le mani perché è lui che le asperge la fronte con l'acqua santa a teatro dove siede alle sue spalle e le sussurra qualche frase divertente all'orecchio e poi nelle passeggiate in carrozza e agli eventi mondani in assenza del marito che sicuramente ha qualcosa di meglio da fare il cicisbeo è pronto ad assisterla anche nelle cose più spicciole come la corrispondenza le compere o le visite di cortesia un tipo di relazione che i viaggiatori europei trovano piuttosto curiosa se non addirittura scandalosa in una lettera scrive l'aristocratica britannica lady mary wortley montague la moda è ormai accolta in tutta italia dove i mariti non sono creature così terribili come noi li rappresentiamo tra loro non c'è nessuno che possa fingere di trovare da ridire su un'usanza così ben consolidata e difatti mary wortley ha perfettamente ragione nessun marito si sognerebbe mai di disapprovare la moglie perché si tiene vicino un cicisbeo anzi talvolta il diritto ad avere un cavalier servente è previsto nel contratto di matrimonio la chiave per comprendere quest'usanza sta tutta lì nella definizione di contratto di matrimonio le nozze quasi sempre combinate per motivi di interesse delle due famiglie d'origine non presuppongono un particolare coinvolgimento emotivo dei coniugi un marito geloso del cicisbeo apparirebbe quindi ridicolo ai suoi pari l'usanza è ristretta solo all'aristocrazia una persona non garbata e con vedute ristrette siamo d'altronde nel secolo dei lumi questa usanza del cavalier servente si diffonde in italia e in misura molto minore in spagna in francia ovviamente in città dove le nobile donne hanno occasione di uscire e fare vita sociale il cicisbeo che ovviamente proviene da una famiglia nobile ha addirittura la funzione di allargare la cerchia di amicizie della nobile donna magari fresca sposa appena uscita da un convento dove è stata chiusa per ricevere un'educazione adeguata e quindi poco avvezza alla vita mondana in un'epoca nella quale l'eredità di beni e titoli è riservata solo ai primogeniti ci sono in giro tanti nobili senza mezzi destinati al celibato che diventano i cicisbei di qualche dama il vantaggio è reciproco anche se spesso quella strana liaison che dovrebbe servire a proteggere la dama in molti aspetti della sua vita si trasforma di fatto in un rapporto adulterino in realtà il cicisbeo ha o almeno avrebbe dovuto avere anche la funzione di salvaguardare la virtù della sua signora frapponendosi fra lei e un possibile innamorato quello sì pericoloso mentre il marito se ne va in giro per affari o per diletto magari in visita a qualcuna delle sue amanti come testimonia sempre mary wortley i mariti tentano di scegliere essi stessi il cicisbeo per la moglie che però poi riesce sempre a prendersene uno di suo gradimento d'altra parte la scelta è ampia se vogliamo credere a quanto scrive madame destelle nel suo romanzo corinna o l'italia basato sul diario di un viaggio in italia dell'autrice tre o quattro uomini con funzioni diverse seguono la stessa signora che a volte senza nemmeno prendersi la briga di menzionare i loro nomi al suo ospite riporta con sé uno è il favorito un altro è l'uomo che aspira ad esserlo il terzo è chiamato il malato il patito ed è completamente disprezzato ma gli è permesso di recitare la parte di ardente ammiratore e tutti questi rivali convivono pacificamente insieme quando scrive madame destelle nel 1807 siamo agli sgoccioli di quell'usanza considerata troppo libertina l'ottocento è il secolo del romanticismo ovvero delle passioni anche amorose che non lasciano spazio agli insipidi rapporti di convenienza vissuti fino ad allora né all'interno del matrimonio né tanto meno al di fuori lo immaginate lord byron come cicisbeo oltretutto è da poco passata la tempesta della rivoluzione francese che quanto a morale prevede più austerità e decoro rispetto alle vacue usanze dei nobili per non parlare della retorica risorgimentale tutta a volta a celebrare il sacrificio e l'impegno personale per il bene comune niente a che vedere con quei personaggi descritti da carlo goldoni e venezia è ovviamente una città dove i cicisbei erano presenti in gran numero come martiri della galanteria e schiavi dei capricci del bel sesso eppure con tutti i limiti dell'epoca il settecento sembra essere un periodo dove sorprendentemente alle donne erano concesse alcune libertà che poi andranno perse nei secoli successivi e che saranno molto difficili da riconquistare grazie a tutti grazie a tutti